Nei giorni scorsi abbiamo letto che probabilmente parteciperanno anche gli esponenti di Casa Pound. Qualcosa in contrario? Sono ben accetti? Ecco, io su questo sarei curioso di sapere se... Da chi inneggia il fascismo? Tirate indietro o no? Ma senza ridere, eh? Ma guardi, allora mettiamo la serie. Sono nato nel settore. Faccio solo una domanda, però risponde alla mia domanda. A chi devo rispondere? A me, grazie. Prima a me perché ho poco tempo. Allora, al subcomandante Marco, subconduttore no, al conduttore vero. E al conduttore vero io rispondo banalmente che voi ci dovete dire che cosa dobbiamo fare? Andare singolarmente all'interno della manifestazione a dire tu che cosa voti? Casa Pound la prendi e impagliatela. Voglio dire, questa è una manifestazione aperta a tutti coloro. Quindi possono partecipare anche gli esponenti di Casa Pound? Tanto la domanda vera deve essere fatta a chi l'ha lanciato, cioè Salvini. E' aperta a tutti coloro che ritengono che questi signori qua, con una manovra di palazzo molto tempo formulata, hanno sequestrato il voto a 60 milioni di italiani. Per fratelli d'Italia possono partecipare anche a questa piazza gli esponenti di Casa Pound? Guardi, io i cordoni sanitari non riesco a farli nel 2019. Io chiedo scusa e cerco educatamente di rispondere a male. Ma come fate a sostenere che è stato sequestrato il voto a 60 milioni di italiani, che vivete in una repubblica parlamentare nata peraltro anche dalla lotta al nazifascismo, una repubblica costruita su un sistema democratico che prevede delle regole per le quali si va in Parlamento e c'è un Presidente della Repubblica che ha certi poteri. Ma come fa lei a dire che abbiamo... Cosa ha certi poteri? Mi spieghi. La sovranità viene esercitata in un po' italiano, virgola, nelle forme e in un mito certo. Quello che è accaduto è contro la Costituzione italiana, cioè questo è un governo che è andato contro le regole, il Presidente della Repubblica ha esercitato i poteri che gli sono propri. Secondo uno dei padri fondatori e dei... No, ma lei sta sostenendo questo? Assieme a Costantino Mortati, che forse di Costituzione ne sa, tanto così più di lei, in termini di preso popperno, perché lei dimostra che non conosce nemmeno la Costituzione italiana. Perché forse Costantino Mortati, io l'ho studiato, diritto costituzionale, leggendo Costantino Mortati. Allora, vi devo salutare, De Nicola e la direttrice restano con noi per l'appunto. Anche il suo. Dopo la pubblicità, siccome Bonaccini diceva che noi non parliamo mai delle ricadute, degli effetti di temi, e invece noi dopo la pubblicità parliamo di povertà, perché questo doveva essere abolita la povertà. E invece siamo ancora molto poveri, tra poco.